Stipendi dei manager veneziani sotto la lente del governo. Per il premier Matteo Renzi va fissato un tetto ai compensi dei dirigenti delle oltre 7.000 partecipate dagli enti locali italiani. I paperoni delle aziende pubbliche veneziane sono noti. Il direttore generale del Casino, Vittorio Rava, guadagna oltre 300.000 euro l'ordi l'anno. L'amministratore delegato di AVM e di ACTV, Giovanni Seno, ne porta a casa circa 210.000. Intorno ai 200.000 invece il direttore generale di Veritas, Andrea Razzini. I manager veneziani non sono pagati più degli altri, anzi, credo che il tetto di spesa di compenso ai manager sia un'indicazione giusta. Noi l'abbiamo già attuata da tempo. Un intervento di moralizzazione sugli stipendi è giusto, commenta invece il segretario generale della Camera di Commercio Veneziana, Roberto Crosta. Ma forse il criterio del tetto massimo non è il più indicato. Ci deve essere soprattutto più che un tetto una politica che va veramente a premiare le eccellenze. Quindi io sposterei il tema non soltanto sul tetto ma sul fatto di un pubblico che si misura su obiettivi certi, su nuovo sviluppo e quindi non tanto sulle retribuzioni cosiddette di posizione ma su quelle di risultato perché è lì allora che si ottengono i risultati veri e propri.